Ciao, sono Fabiana Cumia e sono Communication and ESG Director per una multinazionale dell'intrattenimento e sono anche attivista per progetti di gender equality nella fattispecie Prime Minister che è una scuola di politica per giovani ragazze dai 14 ai 19 anni e recentemente anche attivista per Women in Film che è un'associazione per donne che lavorano nel mondo del film, media e television ho iniziato la mia carriera nel profit, ho lavorato per circa 20 anni per multinazionali dell'intrattenimento e tech company start up, scale up e agenzie di comunicazione e pubblicità e una decina d'anni fa ho cominciato a unire il mio percorso con l'attivismo e lo studio nel no profit ho contribuito a fondare una ONG che ha salvato più di 600 vite umane in tre anni si chiama Mediterranea Saving Humans e da là ho capito che dovevo assolutamente trovare una forma, una maniera di conciliare la mia vita da professionista e da attivista l'ho fatto per anni avendo una doppia vita, una nel profit di giorno e una nel no profit di notte fin quando per fortuna sono riuscita a trovare un ponte tra le due dimensioni con la sostenibilità, con la ESG per cui oggi le aziende possono anche produrre un impatto sull'ambiente e sulla società che non sia soltanto un impatto economico io oggi sono ESG Director dell'azienda per cui lavoro oltre che Communication Director a livello europeo e sono molto contenta di poter conciliare le due dimensioni anche se di notte resta tutta l'altra parte da attivista per la gender equality e per i diritti umani e anche se di notte per i diritti umani e anche se di notte per i diritti umani e anche se di notte per i diritti umani e anche se di notte per i diritti umani